Ciao a tutti da Saludatore, eccomi qui con le bravissime Incanto Quartet. Ciao, grazie. Ecco, oggi ospiti al Teatro Golden. Te aspettiamo stasera alle 21. E precise, 21 precise. Mi raccomando. Ecco, non mancate e ricordiamo i vostri nomi. Francesca, Laura, Claudia e poi la quarta. Siamo in attesa della nostra quarta ovviamente, del Bravo Quartet. Che salutiamo e salutiamo tutti i vostri fan. Ciao. Ciao.